allora e ho deciso di strutturare la mia tesi sul discorso della nutraceutica diciamo che nel percorso di studi che ho fatto in naturopatia in questi anni mi sono resa sempre più conto di quanto è importante sapersi alimentare in modo consapevole quindi la nutraceutica come può venirci in aiuto per aiutarci con molte malattie e soprattutto a prevenire molti disturbi che oggi nella nostra società sono molto comuni e per quanto riguarda questo il giardino dell'eden mi rimanda un po una situazione di di benessere quindi non ha nulla a che vedere ovviamente con l'aspetto religioso ma è una situazione in cui madre natura ci ha messo completamente a disposizione tutto ciò di cui abbiamo bisogno e e con questo quindi la nutraceutica e come termine diciamo che non è molto utilizzato perché molti vocabolari la escludono però il termine nutraceutica viene venne coniato da stefane de felice nel 1800 nel 1989 quindi diciamo una data non tanto diciamo indietro con il tempo quindi abbastanza recente e si intende con nutraceutica il termine nutrizione più farmaceutica quindi tutti quei principi attivi all'interno degli alimenti che possono andare ad avere un'azione farmacologica quindi aiutarci in questo senso e in effetti questo non è un discorso a noi sconosciuto perché già da ippocrate che lui stesso affermava lascia che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il cibo con cui ti alimenti e questo ha fatto sì che la nutraceutica abbia una grande valenza sotto questo punto di vista in realtà è molto difficile da dare l'inizio della medicina soprattutto la medicina la nostra medicina tradizionale ma possiamo ricordare due eventi specifici uno riguardante edward jenner nel 1796 quando per primo effettuò la vaccinazione contro la vaccinazione contro il tetano se non sbaglio e lui diede inizio alla medicina preventiva bisogna aspettare intorno al 1929 quando fleming scoprì la medicina in qualche modo scoprì la penicillina quindi attuando un'idea di medicina curativa nel corso diciamo che negli anni che intercorsero tra edward jenner e fleming gli uni le uniche possibilità di cura erano quelli che noi oggi definiamo come cure alternative medicina alternativa quindi mi viene da pensare al alla soluzione allo sciroppo con cipolle aglio miele e limone che veniva usato per le malattie respiratorie quindi come spettorante antibatterico ci sono vari metodi vari diciamo cure molto utilizzate in quegli anni che oggi purtroppo o comunque in qualche modo risultano delle cure alternative ecco allora il vastissimo campo della nutrizione della nutraceutica si occupa di studiare i principi attivi capaci da portare benefici alla salute questo si intende che esistono davvero validissimi agli aiuti ad esempio i polifenoli che sono ottimi per andare ottimi antiossidanti quindi possiamo aiutarci anche in questo senso è importante che si stabiliscano dei principi e deve essere considerato sia dal punto di vista scientifico basandosi su studi certi ovviamente quindi sono stati fatti tantissimi studi sulla curcumina ad esempio il principio attivo della curcuma sul gingerolo quello attiente allo zenzero il quale è molto anche molto utilizzato come bio enhancer quindi una molecola che può dare aiuto ad altre nel caso in cui queste non siano del tutto biodisponibili riesce a veicolarle sicuramente una percentuale più elevata deve rispettare molti chiavi della disciplina quindi a portare benefici a portare vitamine acidi grassi non favorire il sovrappeso ovviamente ed avere un'azione farmacologica altrimenti non abbiamo diciamo la validità come nutraceutico una cosa molto che diciamo mi è piaciuta molto facendo questa ricerca sono i cibi asi dall'acronimo appetibili sazianti e ipocalorici questo significa che noi siamo in grado con la nutraceutica di nutrirci in modo consapevole ma anche con gusto con diciamo l'avanzare della tecnologia quindi studi scientifici nel corso degli anni si è sviluppata intorno alla nutraceutica anche altre discipline che sono molto più molto più approfondite come la nutrigenomica la nutrigenetica e l'epigenetica questo è stato anche è stato un grande aiuto questo studiare il il genoma umano che ad oggi noi conosciamo perfettamente e che è stato studiata anche sotto in chiave nutraceutica ad esempio la nutrigenomica studia la relazione che intercorre tra i nostri geni e le sostanze nutraceutiche quindi principi attivi alimentari e come queste riescono in qualche modo a modificare l'espressione genica all'interno del del nostro dna quindi non ovviamente non è non deve passare il messaggio che l'alimentazione modifica il nostro dna ma fa sì che il nostro corredo genetico si esprima in modo ottimale quindi possiamo andare in questo senso a aiutare alcune alcuni aspetti che per ognuno di noi sono caratteristici quindi la predisposizione a determinate malattie la ad esempio anche le mi vengono in mente le allergie le sensibilizzazioni e come tolleranze e di conseguenza la nutrigenet la nutrigenomica è accostata alla nutrigenetica la quale individua le scelte alimentari più adatte alla nostra costituzione quindi una volta che si è andata a studiare e il dna in questo senso noi possiamo andare a fare le scelte più adatte per alimentarci in modo corretto e soprattutto che sia adatto al nostro caso specifico l'epigenetica invece studia il modo in cui i fattori esterni quindi fattori epigenetici come l'alimentazione ma al di fuori tutto quello che ci arriva quindi anche il nostro stesso stress genera delle molecole infiammatorie e quindi fattori epigenetici in generale soprattutto l'alimentazione che è la cosa preponderante per quanto riguarda la sempre la nutraceutica noi possiamo aiutarci anche dal punto di vista psicologico perché il cibo influisce in qualche modo il cibo ci influenza psicologicamente la nostra psicologia influenza il modo in cui noi andiamo a nutrirci e quindi il cibo psicologia la dimensione culturale perché la dimensione culturale in cui viviamo la il nostro ambiente che ci circonda anche in qualche modo va a modificare i nostri i nostri comportamenti va ad influenzare i nostri comportamenti quindi l'uomo ha subito un'evoluzione dal punto di vista culturale e ovviamente anche alimentare anche qui mi piacerebbe fare un un escursus temporale molto diciamo molto indietro che mi è piaciuto anche andare a ricercare queste cose durante la stesura della tesi e per cui l'uomo molti antropologi sostengono che l'uomo abbia avuto il suo massimo diciamo il suo picco evolutivo durante la scoperta del fuoco questo è stato un evento molto importante perché a questo punto l'uomo habilis divenne omo erectus e il suo cervello crebbe da 400 centimetri cubici a mille e quattro centimetri cubici ovviamente lui in questo modo riuscì a manipolare la natura anche con la cottura dei cibi e il cibo divenne non più una cosa per cui si doveva andare si andavano a creare delle tensioni come avviene nel mondo animale ovviamente l'istinto di sopravvivenza alla maggiore invece in questo caso il cibo divenne piano piano un fattore di convivialità noi oggi attribuiamo al cibo la convivialità un modo molto semplice naturale ci sembra quasi scontato ma in realtà non non è così è una nostra prerogativa e purtroppo però ai giorni d'oggi nella società in cui viviamo il cibo spesso è percepito come consolazione nel senso che siamo sempre più ehm stressati dati ehm diciamo viviamo una vita molto frenetica e il cibo a volte eh può generare dei disturbi alimentari si può intervenire su questo aspetto eh nei primi ehm nei primi tempi dell'infanzia magari non andando a ehm offrire del cibo a bambino quando non so si scaturiscono si scaturiscono dei capricci dove c'è bisogno magari di altro di affetto ehm emotivo quindi andare a offrire del cibo a bambino in questo in questo caso si vanno a creare delle connessioni eh psicologiche per cui il cibo è eh un motivo di un motivo consolatorio ehm impariamo a nutrire la mente come bagaglio culturale anche questo rientra nella dimensione culturale di ognuno di noi perché in nutraceutica anche qui ci può eh può essere un validissimo aiuto eh perché ci sono molte sostanze molte molecole come dicevo anche prima eh i polifenoli sono i maggiori che vanno a diminuire gli effetti dello stress dello stress quindi eh in questo caso ehm si crea molto cortisolo una molecola che è deleteria e soprattutto influisce su un sullo stato infiammatorio e e quindi noi con la nutraceutica possiamo andare possiamo andare ad aiutarci anche in questo senso perché se noi curiamo la mente e ehm abbiamo questa capacità siamo anche in grado di prenderci cura di noi stessi a trecentosessanta gradi allora questa è un un diciamo un estratto della mia tesi che eh ho voluto riportare perché è stato proprio un momento in cui io mi sono resa appunto eh dell'importanza del cibo e come si è eh diversificato nelle diverse culture eh non so se è il caso magari di di leggerlo ehm però eh eh è all'interno della mia tesi. Beh sì eh direi leggiamolo velocemente ma leggiamolo. Ok. Anzi leggi. Mi sposto la la casella. Abbiamo un attimo interruttore salutare Luciano che si è connesso mentre avevamo cominciato. Buongiorno. Sì sì buongiorno ti ho ascoltato. Forse ho perso i primi due minuti ma ascoltavo tutto. Con piacere sì. Molto interessante ehm no eh eh tra l'altro anche il discorso del fuoco no? Cioè c'è la mitologia greca che addirittura ha creato tutto il mito di Prometeo no? Quindi molto interessante. Quindi Giove lo punisce perché è comunque un aspetto tecnico no? E quindi questo ci fa pensare anche oggi che siamo un pochino eh in qualche modo subissati dalla tecnica. Quindi è molto interessante anche diciamo come hai svolto i principi anche dell'epigenetica. L'epigenetica è la parte proprio della scelta cioè eh nel momento stesso in cui io scelgo come hai detto bene no sul piano mentale eh quello che poi influisce poi è chiaro nel momento stesso in cui ingerisco eh non è più epigenetica ma diventa genetica. Quindi bisogna stare molto attenti alla parte proprio preliminare. Esatto l'alimentazione è una cosa che noi tutti attuiamo ci sono delle cose che possiamo fare possiamo scegliere possiamo non scegliere invece l'alimentazione è qualcosa di imprescindibile quindi a maggior ragione dobbiamo capirne la l'importanza. Allora a primo impatto ciò che ci differenzia sono stati i tratti distintivi che si sono geneticamente instaurati per adattarsi alle differenze situazioni di abito occupati ma ancor più forti e preponderanti perché frutto di uno sviluppo culturale e sociale sono la lingua e il patrimonio culturale. Ebbene sì perché il cibo a mio parere rappresenta la seconda lingua madre di qualsiasi paese o meglio la materializzazione della lingua parlata in cibo. Sostanzialmente ciò che ci dice il cibo di ogni cultura. Ad esempio se pensiamo ad un tegame, la tagine, con farina di grano cotto e sgranato ricoperto dal colore caldo del sugo di pomodoro e carne di agnello ci rimanda con il pensiero al territorio al torrido deserto del Marocco immaginando la gente la gente di quelle terre intorno a tale pietanza che discutono nella lingua che accompagna il loro cibo e ancora immaginando un piatto di spaghetti fumanti conditi al sugo di fresco di pomodoro con una fogliolina aromatica di basilico a rappresentare la bandiera italiana in cima alla vetta di spaghetti arrotolati oppure osservando la maestria con cui in Oriente il pesce viene sfilettato per ricavarne pezzi settili come fogli che si sciogliono in bocca adagiati su mezzo pugno di riso condito con aceto, zucchero e accompagnato dal pregiato pesce. Dai prezzel, i viustel, le patate e i crauti a zuppe calde di carne e verdure che scaldano i cuori nei fresi freddi dell'est. Insomma potremmo parlare in modo infinito di come si è spaventosamente e ampiamente variegato il modo di nutrirsi nelle varie culture del nostro pianeta tanto da precedere il popolo che le ha create. Io mi sono immaginata questa stanza vuota di fronte diversi piatti con le persone che l'hanno offerte al di là del muro. Io di fronte alle pietanze so dall'altra parte chi mi troverò perché il cibo per come si è sviluppato e per le tante varietà di cibo che esistono, soprattutto le varie ricette, ci dicono tanto di chi siamo, da dove proveniamo e la nostra cultura. Quindi il cibo è importante non solo dal punto di vista scientifico, ovviamente dal valore e dalla valenza che ha sul nostro corpo ma anche proprio culturalmente, cioè questa cosa mi ha affascinato tantissimo. Ok. E poi arriviamo al fantastico concetto che il cibo diventa noi. Il cibo diventa noi nel senso che ciò che noi vediamo di fronte ai nostri occhi nel momento in cui ci accingiamo a nutrirci sappiamo per certo che quel cibo diventerà quello che è il nostro corpo ma non solo. Mangiare secondo le stagioni come atto di cura verso la natura e verso noi stessi perché non molto spesso si dà peso diciamo all'importanza di nutrirsi secondo le stagioni ma non solo per quanto riguarda i vegetali. Anche la carne e il pesce seguono la stagionalità ed è importante questo innanzitutto perché fa bene a noi perché ci nutriamo in modo corretto ma fa bene anche al nostro pianeta, all'ambiente che ci circonda perché ad esempio le carni seguono la stagionalità e seguire questa stagionalità fa sì che il ciclo riproduttivo dell'animale non venga meno quindi non si va ad intaccare in modo aggressivo anche gli animali. Mangiare secondo le stagioni soprattutto in medicina tradizionale cinese è un concetto molto importante. In medicina tradizionale cinese si segue anche la teoria dei cinque elementi infatti prendiamo ad esempio la primavera che è rappresentata dall'elemento legno dal colore verde è un momento in cui dobbiamo andare a sostenere cioè la medicina tradizionale cinese quindi nella teoria dei cinque elementi ci dice che dobbiamo andare a sostenere l'energia del fegato quindi come avviene in natura nel momento della primavera dove la linfa risale nella pianta per andare a nutrire il germoglio per far sbocciare il fiore per far nascere le foglioline anche noi allo stesso modo dobbiamo aiutare la nostra energia a risalire e quindi facendolo in che modo? Andando a sostenere l'energia del fegato e andando a nutrirci con i frutti di quella stagione allo stesso modo poi per tutte le altre stagioni perché noi in quella stagione abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno non ci serve nient'altro e noi siamo ciò che mangiamo. Feuerbach sosteneva fortemente questa teoria anche contrariamente al pensiero filosofico religioso del suo tempo lui sosteneva che il corpo e la mente sono un elemento inscindibile non possiamo pensare al corpo come un singolo e alla mente come un singolo ma questi convivono e partecipano attivamente a quello che noi siamo e infatti ecco questa mi è rimasta molto in mente perché lui dice il cibo diventa sangue, il sangue diventa tessuto, il tessuto diventa organo e quindi cuore e quindi cervello, pensieri, sentimenti, siamo quello che mangiamo non è solo che diventa solo materia il nostro corpo ma diventa anche quello che siamo, quello che pensiamo, la nostra energia in un secondo momento si è creata anche la fiduolimurgia questa è un'altra disciplina molto importante che è stata coniata da, questo nome è stato coniato da Giovanni Tognani Tiozzetti nel 1767 perché lui in seguito alla carestia che ci fu in quegli anni nel 1764 vuole aiutare le persone a nutrirsi anche in questi momenti tragici alimentandosi con le erbe spontanee e infatti la fiduolimurgia deriva dalla parola alimenta urgenzia a cui è stato aggiunto il prefisso fito per far capire che si intende di vegetali e quindi tutte le erbe spontanee che noi troviamo nel nostro ambiente naturale ovviamente adesso è molto diverso dal 1700 perché dobbiamo stare attenti se volessimo fare questa, se volessimo nutrirci con la fiduolimurgia perché oggi siamo invasi in una società in cui c'è molto inquinamento quindi dovremmo stare attenti dove andare a raccogliere e soprattutto informarci bene poi ci sono ovviamente molte regole sulla fiduolimurgia però questo è davvero un aiuto molto importante e soprattutto perché le piante che crescono spontaneamente hanno diciamo in qualche modo un quantitativo di nutrienti maggiore perché senza l'aiuto dell'uomo sono dovute sopravvivere e quindi sicuramente un contenuto maggiore di nutrienti allora l'infiammazione cronica e la nutraceutica anche qui la nutraceutica è una fase fondamentale può dare un grande aiuto perché l'infiammazione cronica è una cosa che può darci molti disturbi, può portare a molte malattie e soprattutto può creare dei danni anche latenti ad esempio l'infiammazione è una condizione in cui il nostro corpo genera delle molecole che vanno a disabilitare quelli che sono gli stressor esterni l'infiammazione non ci deve preoccupare se è in fase acuta perché la fase acuta è quella che l'infiammazione arriva ci dà il disturbo e poi se ne va l'infiammazione cronica soprattutto di basso grado è quella che più ci crea problemi perché a lungo andare noi magari non ce ne rendiamo conto non ci dà disturbi evidenti quindi dobbiamo fare in modo che questo non avvenga e soprattutto aiutarci anche se possibile con la nutraceutica il processo dell'acidosi extracellulare anche in questo caso promuove l'infiammazione questa è una delle cause a cui non si dà molto peso ma l'infiammazione, ma il processo di acidosi extracellulare invece è un forte punto è importante questo perché comunque noi con l'alimentazione andiamo a creare molte sostanze acide che si accumulano in questa matrice extracellulare quindi tra vasi sanguigni e organi cioè questa matrice extracellulare in cui sono contenute tutte le cellule del tessuto connettivo e in cui si vanno ad accumulare tutti questi acidi noi inizialmente abbiamo diciamo che l'infiammazione può essere anche fisiologica perché inizialmente abbiamo dei sistemi tamponi come il sodio e il potassio e quindi vanno a legare questi H+, e fanno in modo che la situazione è sotto controllo nel momento in cui invece questo aiuto viene meno si vanno ad intaccare altri minerali come il manganese e il calcio e quindi da lì si possono generare tutta una serie di disturbi come l'ossocorosi e la sarcomenia ad esempio che con l'avanzare dell'età sembra sempre più un disturbo sempre più diffuso ma in realtà è una condizione che non sarebbe fisiologica e quindi noi possiamo andare con l'antraceutica a diminuire questa possibilità e quindi il ruolo dell'antraceutica nell'infiammaging è anche in questo senso e poi c'è un altro punto che è la detossificazione epatica che è uno dei punti più importanti perché il fegato rappresenta diciamo un po' come la stazione d'arrivo di tutte le nostre tossine e che se queste non vengono eliminate correttamente ovviamente crea un corpo, un organismo intossicato il fegato poi lavora in più fasi quindi alla fine genera delle molecole idrosolubili e vengono eliminate con l'urine e delle molecole liposolubili che vanno nell'intestino e quindi poi vengono eliminate tramite le feci questo è un passaggio molto importante e che dobbiamo ovviamente tenerne conto infine abbiamo la micoterapia che anche essa rientra nella nutraceutica perché ci sono moltissimi funghi medicinali soprattutto usati nella medicina tradizionale cinese qui non è magari ancora molto sviluppata ma abbiamo davvero tantissimi tipi di funghi ad esempio come vediamo il Ganoderma il Ganoderma lucidum e l'Agaribus blazemum ril ma ce ne sono tantissimi che vanno a agire su diversi aspetti quindi noi possiamo andare a sostenere il sistema immunitario il sistema nervoso andare a creare delle situazioni anti-infiammatorie c'è ad esempio una molecola che si trova all'interno di alcuni funghi che è la melanina che è presente anche sulla nostra pelle per cui è stato visto su un sito di Chernobyl in un report del 2001 che sono stati trovati dei fondi che crescevano su delle pareti delle abitazioni in quella zona e che riuscivano quindi a sopravvivere all'alta concentrazione all'alta percentuale di radiazioni questo grazie alla melanina che in qualche modo riesce a modificare le sue attività elettromagnetiche e a utilizzare le radiazioni come se fossero i raggi solari quindi è come se attuasse una specie di fotosintesi e riuscisse a sopravvivere in quelle condizioni quindi anche in questo senso aiutarci con i funghi medicinali può aiutarci a sopravvivere in un mondo che ormai siamo attaccati un po' su tutti i fronti le molecole biattive presenti nei funghi medicinali sono molteplici abbiamo i beta-glucani, i piriterpeni, la melanina come diciamo i polifenoli che sono fantastici antiossidanti e gli ergosteroli contro l'infiammazione quindi il pianeta in sostanza il nostro pianeta possiamo ritenerlo come il nostro giardino dell'Eden se sappiamo sfruttare tutte queste proprietà siamo in grado di vivere una vita molto più sana bravo Martino, hai rispettato i tempi assolutamente io ho preparato anche un altro link se volessimo fare qualche minuto in più però intanto procediamo con i vostri commenti beh sì, io da subito ho visto che era un'ottima tesi un argomento molto interessante anche alcune lezioni sul campus tipo l'analisi minerale del cappello la nutrigenomica già da più di un decennio fa parte del nostro palinsesto a me è piaciuta molto la presentazione è molto lineare io lascerei lo spazio prima di fare i complimenti di chiusura a Martina lascerei lo spazio per qualche domanda io ho fatto questa tesi davvero con molto trasporto perché sono dei temi a me davvero molto cari e poi ho scoperto anche molte altre cose interessanti molto interessante anche l'aspetto dei collegamenti che hai fatto cioè l'aspetto esterno ed interno il territorio come territorio esterno ma anche come territorio interno con la mente che in qualche modo funge un pochino da frontiera e quindi anche la cura importante che bisogna dare al tipo di approccio anche in questo nella professione che penso che tu farai a breve questo aspetto di accoglienza che permette alla persona di instaurare prima di tutto un equilibrio al suo interno in modo tale che lui stesso possa essere poi maturare la terapia più adatta insieme ovviamente a tutti i consigli che tu gli potrai dare questo è un aspetto fondamentale insomma per quanto riguarda i naturopati e quindi questo penso che lo hai maturato anche nei tuoi studi il fatto di poter unire tutti questi aspetti e quindi poi trovare le soluzioni migliori anche attraverso appunto il colloquio la partecipazione della persona che ti chiederà aiuto certo io poi penso anche che se noi siamo in grado di ascoltarci internamente sappiamo qual è la strada migliore da seguire il macrocosmo si rispecchia in noi quindi nel microcosmo e non c'è nient'altro da dire e da sapere mi ha aiutato tantissimo a capire tutti questi aspetti io ovviamente avendo scelto il percorso di naturopatia evidentemente in me già nasceva qualcosa di capire di più di sapere di più ed è così ed è stato proprio così perché la mia mente ha iniziato a mangiare queste informazioni e a capire quanto è meravigliosa questa disciplina e tutte quelle che contiene tutte quelle di cui si serve come anche la riflessologia plantare che abbiamo concluso pochi giorni fa il percorso che è un mondo a sé stante completamente quindi mi ha formato a 360 gradi sono molto felice di questo ma non mi fermerò cioè non mi fermerò qui perché da sapere cioè da imparare non si finisce di imparare non si finisce mai ed è proprio una mia una mia prerogativa quindi mi appassiona sostanzialmente comunque noi ci siamo in ogni caso anche per assisterti nel tuo continuo percorso quindi complimenti una considerazione Martina ci sta dicendo che la naturopatia e la formazione in naturopatia fa parte della nutriceutica in sostanza in sostanza ha detto questo direi che possiamo concludere facendo i complimenti a Martina ne avessimo tanti di allievi così buon lavoro buon futuro come dicevano i miei colleghi noi ci saremo sempre ci siamo sempre e quindi tanti auguri per il proseguimento e complimenti grazie davvero tanto sarà un diploma sarà un diploma con l'Ode ovviamente io ero così ansiosa di questa giornata invece adesso non si era proprio capito non lo avevamo capito guarda adesso invece non vorrei non vorrei chiudere più così vorrei fare la cena stasera e ho visto che saresti in grado è per questo che ti ti blocchiamo altrimenti gli altri non possono sostenere la loro tesi ok Martina un applauso grazie grazie davvero comunque a presto bocca al lupo bocca al lupo e a presto grazie ciao un saluto un saluto a tutti grazie a tutti